Il 2011 è stato dichiarato Anno Europeo del Volontariato. La provincia di Bolzano ha organizzato e organizza una serie di iniziative e di progetti con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza, la popolazione su uno degli aspetti più importanti in ambito sociale, sanitario e di sostegno alle famiglie. Un altro importante obiettivo dell'Anno Europeo del Volontariato è la valorizzazione del lavoro di migliaia di volontari altoatesini. La parola volontariato comprende un mondo talmente vasto che è quasi impossibile riuscire a trovare una definizione comune. Ci spostiamo a Merano. Le strutture dedicate ai ragazzi come ad esempio il Centro Giovani Santo Spirito sono punto di riferimento sul territorio. Molto qui si basa sul volontariato e non si pensa solo alla formazione. Io ho iniziato qui, sono stato chiamato per realizzare dei lavori, la sala musica, la sala d'incisione, tutti questi lavoretti qui. Poi un po' alla volta mi sono fatto un po' prendere anch'io dal centro. Quindi adesso curo proprio il discorso manutenzioni, nel vero senso della parola, cercando proprio di non far spendere oltre il dovuto il centro. Cerco un po' le occasioni. Quindi se qualcuno mi dà una mano, anche così ho altri amici, si sta qua divertendosi, facendo un po' di solidarietà sostanzialmente. Non faccio una solidarietà di denaro, non faccio versamenti di niente, offro le mie mani in pratica. A fine ottobre la provincia di Bolzano ha organizzato un convegno a respiro internazionale, incentrato proprio sul volontariato. Lo abbiamo sentito poco fa, 10.000 i volontari presenti in 400 associazioni, 3.000 i volontari che si adoperano nel lavoro per e con le famiglie in Alto Adige. Le stime parlano di 100.000 persone che ogni anno donano il proprio lavoro, il proprio impegno al prossimo, alla collettività. Sono numeri che la dicono lunga sull'importanza del volontariato in provincia di Bolzano. Provincia di Bolzano che offre una serie di supporti e strumenti non solo a coloro che già sono volontari, ma anche a coloro che vogliono entrare a far parte di questa grande famiglia. Ulteriori informazioni sull'anno europeo del volontariato le potete trovare sul sito internet dedicato all'indirizzo www.provincia.bz.it www.provincia.it.it slash politiche trattino sociali www.provincia.it 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 slash politiche trattino sociali